Siamo a Milano, all'interno della monomarca DigiShock qui in Corso Cuomo, stasera diamo una preview di quello che i nostri fan possono trovare in negozio a partire dal prossimo mese di marzo. Oltre a tutta la collezione che potete vedere in negozio che ci ha tenuto compagnia fino ad oggi, presentiamo tre nuove collezioni in anteprima in vendita appunto da marzo. La nuova Polarize Marble che ha la particolarità di avere questa colorazione marmo-cangiante e i nuovi G-Mix che si connettono allo smartphone e comandano il lettore musicale sia per Android che per iPhone e i nuovi GBA 400 con queste nuove colorazioni un po' più estive in vista delle stagioni migliori.